Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, sono in autostrada in macchina e sto andando al centro commerciale delle piramidi a farmi sostituire la pellicola del mio Galaxy S7 Edge. Dopo circa 15 giorni che è stata montata sul mio smartphone utilizzandolo senza cover e quant'altro, ho trovato qualche piccolo segno e visto che c'è stato detto di essere completamente garantita a vita, vediamo se effettivamente è così, se me la sostituiranno senza fare troppe storie e soprattutto se ci chiederanno i famosi 4,90€ oppure no. Quindi fra qualche minuto saremo direttamente all'interno del centro commerciale e vedo se mi lasceranno, farò anche un video per farvi vedere la location e indicativamente quello che troverete anche nelle vostre città, così avrete un riferimento per come capire dove si trovano questi stand. Quindi ci vediamo fra poco e vediamo insieme quello che succederà. Ma finalmente ci troviamo all'interno del centro commerciale delle piramidi e questo è il banco dove potremo acquistare queste pellicole davvero molto ma molto particolari. Ma oltre alla grande novità di avere una pellicola full body che vestirà completamente il nostro smartphone, avremo possibilità di scegliere fra i tantissimi colori disponibili all'interno del banco, piuttosto che scegliere del materiale diverso, della finta pelle, del finto carbonio, quindi personalizzando al massimo il nostro smartphone, un qualcosa di veramente unico. Per garantire tutto questo hanno trovato una soluzione davvero molto particolare. Grazie a questa macchina e ad un computer e delle schede precompilate avranno tutti gli smartphone presenti sul mercato. In un attimo avremo la nostra pellicola già intagliata e poi grazie a delle mani esperte verrà applicata in un modo veramente perfetto. Ma adesso andiamo a vedere insieme come verrà montata e l'effetto finale sul mio Galaxy S7 Edge. Lo so sono davvero pignolo ma in questi due punti la pellicola si era un po' alzata ed è stata colpa mia in quanto con una cover un po' troppo rigida andando a rimuoverla sono andato a rovinarla leggermente. In questo caso la colpa è stata mia e dovrei aver pagato 4,90€ per la sola sostituzione della stessa in quanto la pellicola è garantita a vita. Quindi davvero un ottimo affare. Ma prima di cominciare con la sostituzione e la rimozione della pellicola difettosa o comunque da sostituire ci verrà chiesto di esibire il documento di acquisto e la busta che ci è stata consegnata la prima volta che abbiamo montato la pellicola sul nostro smartphone. Quindi ricordatevi con attenzione di portarla con voi. Adesso vi lascio ad un breve video per capire come verrà installata la pellicola sullo smartphone per poi farvi vedere l'effetto finale e vi devo dire che è davvero molto ma molto particolare. Mani esperte che andranno a rivestire il nostro smartphone dalla A alla Z ma vediamolo insieme. Grazie per la visione! 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 Ciao! 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 Grazie per la visione!